Francesco Mosatti, Sky Sport. Abbiamo sentito ieri le tue primissime parole da giocatore da Juventus. Ti chiedo se anche è giunto il momento di mandare un messaggio ai tuoi vecchi tifosi, ai tifosi del Napoli che hanno vissuto molto male questo tuo trasferimento. Sì, questo senza dubbio. Io questo tempo ho rimasto in silenzio, però senza dubbio che ho stato tre anni meravigliosi lì, ho altre parole che ringraziare, tutto l'amore che mi hanno dato, però questa è una scelta che ho fatto per motivi miei e quindi adesso sto pensando alla Juventus, presente, futuro, però senza dubbio un grandissimo saluto a loro perché sé che con me hanno stato bravissimo, capisco che sono arrabbiati con me, ho visto insulti, è sua decisione, però questa è una scelta che la doveva fare e sono felice per questo. C'è Carini di Premium Sport, sono qua, ciao Gonzalo. Tu hai un grande rapporto, hai stabilito un grande rapporto con Maurizio Sarri, l'anno scorso Sarri ti ha valorizzato, probabilmente forse ti ha fatto fare la più bella stagione da quando sei in Italia. Lui oggi ha detto mi aspettavo almeno che mi chiamasse per dirmi la sua scelta, ecco, rimanendoci un po' male, ti chiedo perché non l'hai chiamato e così insomma se lo chiamerai, ecco. È stata una scelta mia stare tranquillo, in silenzio, sfruttare la mia vacanza con mia famiglia, con i miei amici. Non pensare in tutto questo, ovviamente ho solo parola di bene per lui, lui è stato un grandissimo allenatore per me, mi ha fatto crescere, le mando un grande saluto da qua, si è arrabbiato per questo, chiedo scusa, però non è stato per niente in speciale, solo ho parola di ringraziamento su lui. Pino Tormina del mattino, Gonzaro, quando hai deciso che a Napoli era arrivata la fine della tua avventura e cosa avrebbe dovuto fare De Laurentiis per farti cambiare idea? Grazie. No, quando ho finito i miei tre anni lì, per me aveva arrivato il momento di cambiare l'aria, ovviamente non in quel momento, sino per serie di motivi che hanno successo prima. Come ho detto prima, sono ringraziatissimo ai tifosi e ai miei compagni, a lui no, quindi non posso parlare di più, adesso dico un'altra volta che sono felice di stare qua, di questa scelta e una nuova avventura e spero sfruttarla al massimo. Grazie. Era un problema che io non avevo più rapporto con lui, più che era impossibile. Lui non è stato bene con me e io non ho più rapporto con lui, io non avevo voglia di stare un minuto più con lui, quindi più chiaro è possibile. Adesso sono ringraziatissimo alla società che ha fatto un sforzo enorme per me e spero dimostrarle che non è sbagliato.